Se con le maniere buone far rispettare la raccolta differenziata sembra ancora un passo troppo utopico, allora ci ha pensato a Magambiente lanciare una campagna più d'impatto dal titolo Troppo comodo abbandonarlo in strada, allestendo in piazzetta della Lega d'Alessandria un divano, un materasso e una vasca da bagno lasciati lungo il ciglio della strada. Un set che sicuramente non passa inosservato, ma che ha soprattutto uno scopo ben preciso, imparare a smaltire rifiuti correttamente. Sostanzialmente consiste nel stimolare l'attenzione dei cittadini sul fatto che non bisogna abbandonare i rifiuti grossolani, cioè i grandi rifiuti come possono essere i mobili, i divani, i sedi, i elettrodomestici, i bicicletta e quant'altro, ma ci sono in città ben tre centri di raccolta, di cui due di Amagambiente e uno nostro di Aral a Castelceriolo, nei pressi quali si possono portare tutti questi rifiuti che, se portati appunto ai centri di raccolta, diventeranno e saranno tutti recuperati e quindi ritorneranno nel ciclo virtuoso dell'economia circolare. Durante i primi sei mesi del 2023 i tecnici di Amagambiente, insieme alla Polizia Municipale della città, hanno elevato più di 500 multe per abbandono di rifiuti. Tra i più comuni ci sono i divani, seguiti poi da materassi, pezzi di armadi, oggetti edili e chi più ne ha più ne metta. C'è chi d'altronde preferisce smaltirli direttamente nei bidoni della spazzatura, facendoli in piccoli pezzi e tentando così di passare in osservato. Un altro prodotto che dovrebbe essere portato in questi centri sono le batterie. Le batterie di tutti i tipi, non solo quelle classiche, il vecchio stampo delle automobili, anche loro, ma anche le batterie nuove, cioè le batterie dei monopattini, le batterie delle biciclette elettriche. Queste, quando sono scariche, è bene portarle ai centri di raccolta perché possono essere recuperate integramente. La cittadinanza ha tutti gli strumenti per poter conferire gli ingombranti in modo corretto. Ricordo che è un servizio gratuito e ricordo anche che molte città non godono di un servizio di questo tipo. Spesso questo tipo di servizio viene lasciato ai privati, naturalmente pagando. Quindi approfittiamone, cerchiamo di contribuire tutti insieme a rendere la nostra città, il nostro ambiente urbano più bello, più apprezzabile e anche più attraente per chi viene da fuori.